Una scatola contiene 12 palline, 8 gialle e 4 blu. Qual è la probabilità che estraendo due palline dalla scatola, queste siano entrambe blu? A un undicesimo, B 9 venticinquesimi, C un terzo, D 6 e un decimo. Prima di introdurre la formula della probabilità combinata, andiamo a considerare la probabilità di estrarre una pallina blu al primo tentativo. Questa è 4 dodicesimi, infatti il rapporto tra il numero dei casi favorevoli, cioè il numero delle palline di colore blu, e il numero dei casi possibili. È chiaro che questa frazione si può semplificare, infatti se dividiamo numeratore e denominatore per 4 otteniamo un terzo. Ora, dopo aver estratto una pallina blu, rimangono solo 3 palline blu, su un totale di 11 palline invece di 12, quindi al secondo tentativo la probabilità di estrarre una seconda pallina è di 3 su 11. Adesso che sappiamo la probabilità di estrarre una pallina blu al primo tentativo e una pallina blu al secondo tentativo, la probabilità combinata di questi due eventi è il prodotto delle loro probabilità individuali, quindi un terzo per 3 undicesimi che semplifichiamo e otteniamo un undicesimo. La risposta corretta è la lettera A.